Il progetto che abbiamo pubblicato su Nature riguarda lo sviluppo di una nuova tecnologia che abbiamo chiamato BrainX. È una tecnologia che prevede l'utilizzo di un sistema di pompe e tubi per riperfondere con del sangue artificiale il cervello di un grande mammifero nella fattispecie il cervello di maiale utilizzando appunto questo preparato che è sangue artificiale 37 gradi che ha permesso di ripristinare la funzionalità, la morfologia e la vitalità dei singoli elementi cellulari del cervello che sono i neuroni e gli astrociti, le cellule gliali. Non abbiamo potuto ripristinare una funzionalità d'organo ma i singoli elementi cellulari sono risultati esseri vitali e funzionali. La cura di una cellula è un progetto di crowdfunding che ho portato avanti con l'Università di Pavia. Nel team dei professori Gerardo Biella e il professor Toselli che hanno guidato il progetto ci siamo occupati di fare una colta fondi a sostegno dei nostri progetti di ricerca che vedono l'utilizzo di cellule staminali per la differenziazione in tipi cellulari di cellule nervose specifiche con l'obiettivo futuro di utilizzare queste cellule per la terapia rigenerativa trapiantandole in modelli di malattie neurodegenerative come possono essere il Parkinson, l'Alzheimer e l'Huntington allo scopo di conoscere meglio queste patologie e un giorno magari trovare delle possibilità di terapia che impieghino queste cellule sviluppate in neuroni. Chiaramente è un obiettivo a lungo termine che parte dalla ricerca di base e che necessita dell'aiuto di tutti e quindi è stato molto bello poter iniziare a far conoscere il nostro progetto alla popolazione e ricevere dei feedback molto positivi da parte del pubblico che ci ha sostenuto e ha intervenuto a tutti gli eventi che abbiamo organizzato, stati numerosi eventi con molta gioia e molto interesse nei confronti della nostra ricerca. Tra gli eventi che abbiamo organizzato, quelli che probabilmente sono rimasti più nel mio cuore sono quelli legati alla danza perché io per anni ho ballato e continuo tuttora a danzare a livello ovviamente amatoriale, però appunto siamo riusciti a organizzare degli spettacoli molto belli e coinvolgenti tra cui uno al Teatro Fraschini in cui sono partecipato anche dei ballerini professionisti della Scala di Milano e Oliviero Bicfulco, ballerino conosciuto per la trasmissione Amici ma che è un ballerino professionista, anche lui ha avuto un modo di formarsi alla Scala di Milano, quindi appunto siamo riusciti a organizzare questi eventi che hanno avuto una partecipazione pubblico spaventosa, veramente notevole e questo ci ha riempito ovviamente di gioia e in particolar modo io in queste occasioni, in alcuni casi ho ballato nello spettacolo Il Fraschino, ho presentato, quindi è stata un'occasione per me molto importante diciamo dal punto di vista personale perché ha unito le mie due più grandi passioni, la passione per la ricerca e la passione per la danza. Sono da poco usciti i risultati del borsa di studio assegnati dalla Fondazione Umberto Veronesi, io avevo mandato un progetto di ricerca per la Fondazione Umberto Veronesi, ho avuto il piacere di avere la comunicazione che sono risultata tra gli assegnatari della Borsa della Fondazione Umberto Veronesi, borsa di cui inizierò a fruire a partire da primo aprile prossimo e che riguarderà ancora lo sviluppo di studi sull'Huntington e di approfondimento dei meccanismi patogenetici di questa malattia neurodegenerativa altamente invalidante.